grazie grazie buongiorno buongiorno sua eminenza buongiorno ecco buongiorno un momento molto difficile per tutti buongiorno buongiorno mi sente mi sente bene ecco purtroppo dobbiamo accontentarci dobbiamo accontentarci dobbiamo cancellare il viaggio è un viaggio virtuale quello che stiamo compiendo in occasione di questa circostanza di questa ricorrenza che si voleva appunto che ci consentono comunque di continuare ad essere in relazione a far funzionare le istituzioni spalle che sì l'Europa è giovane però sono già stati fissati e io sono molto contento almeno di poter avere anche perché hai sessanta, sessantatré, sessantatquattro anni esattamente esattamente buongiorno buongiorno no le stavo dicendo eminenza che siamo tutti non ci preoccuparsi non ci preoccuparsi non ci preoccuparsi nel problema del rapporto con la natura che non ci preoccuparsi